Bentornati su Facile Sommelier, siamo ancora in Campania, Lacrima Cristi, Doc Vesuvio, noi degustiamo la tipologia rosso, ma prevista anche la tipologia bianco e rosato. Vitigni della tipologia bianca, abbiamo la coda di volpe, abbiamo il greco, abbiamo la falanghina e la verdetta, per quanto riguarda la tipologia rosato e rosso, abbiamo il palombino o piedimonte, lo sciascinoso, detto anche olivella e l'alianco. Perché si chiamano così? Perché Cristo in visita a un eremita redetto gli ha trasformato una bevanda in vino, questo dice la leggenda. Allora, andiamo a fare la nostra degustazione, è un rosso rubino molto carico, lo portiamo al naso, sicuramente frutti rossi, ma anche delle note di cacao, delle note speziate, note speziate che ritornano al gusto insieme a un importante tannino, arrossi di carne miste e soprattutto, perché no, l'ottimo ragù napoletano. Ci vediamo nel prossimo video, sempre su Facile Sommelier.